ok bene gente ebbene si dalla sigla e dal titolo avete capito che sono tornato in nightmare house in questo cazzo di ospidale di matti o c'è sto figlio di buona donna dove oggi farò una cosa farò il finale alternativo dove credo da quel capito andremo incontro ai ideali della bambina dato che noi non andiamo ad uscire il dottor romero ma scappiamo proprio dall'ospedale dato che quando andiamo di sotto c'è venuto scritto exit io provo ad uscire e mi hanno detto ringrazio Mizzica Massimo se mi ricordo metterò il suo canale in descrizione che c'è questo finale alternativo vero Tato? si ha detto di si comunque Minecraft l'episodio con la more creeps è in lavorazione perchè dura tipo 5 minuti non ce lo vorrei far durare di più anche voi credo che lo volete che duri di più tipo 12 minuti vi dico soltanto che per ora sono morto 3 volte ma capitemi perchè c'ho qui nard più ci sono nuovi mostri caverne a buon ormi non ci posso fare niente e comunque oltre a questo video forse oggi caricherò anche o il tutorial sulla cosa sulla more creeps oppure questo episodio che è ancora in lavorazione e i saluti sono i mezzi saluti sono tutti in quel video della mortis quindi non è che non voglio salutare in questo video e che non ne sono scordato ma che sono ancora un altro video ok lì dobbiamo uscire se mi ricordo se c'è la che sopporta no no bambina dobbiamo andare contro i detti oggi ebbene se lo faccio soltanto per i miei fan ah no questo me l'ho scordato sono demente one e una si ah cazzo caduto oh e cazzo tiri la roba bambina di merda vabbè mette l'ansia a sto posto ciao ospedale di merda puttana che m'ha fatto oddio no no una bambina ho ucciso il dottor romero no e baffanculo va smorta anche qui in questo episodio allora so you are hai scelto di uscire da uscire e hai pagato da pena you can't escape for nightmare house tu sei simpatico ok con questo brevissimo video diciamo un video speciale su nightmare house provo per finire tutta la serie così non mi sentimi in colpa vi saluto forse metto il video uno dei video e alla prossima ragazzi ciao ciao